Buon soir, Genes monte, Genes monte, sempre in avanti, sempre in cammino, per favore non restare seduti, E' molto triste quando si vede un giovane che va in pensione a vent'anni, in cammino, sempre in avanti, con le difficoltà del cammino, con i rischi del cammino. Il rischio quando uno è in salita è cadere, il rischio quando uno va in cammino è cadere, ma c'è una bella canzone alpina, forse voi la conoscete, che dice così, nell'arte di salire, il segreto per andare avanti non è nel non cadere, ma nel non rimanere caduto. Tu vai avanti, tu cadi, alzati, alzati subito, questo è il segreto, cadi un'altra volta alzati, ma sempre in cammino, sempre. Se tu sei seduto, non cadrai mai, 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 ma a che serve questo? A niente, per favore non siate giovani dal divano, siate giovani di cammino. Per questo vi dico questo motto, che è il motto della gioventù canadese del prossimo incontro, Genèse Monté, Monté, un cammino, senza paura.